Berlusconi lo abbiamo visto, stamattina era una manciata di chilometri dal tribunale di Milano dove non si è presentato, ma non sembra essere questa, il non presentarsi ai processi, la strategia messa in campo dei suoi fidati collaboratori, ma è tutta parlamentare, soprattutto all'insegna del fare presto. Infatti bisogna sbrigarsi perché sono ben quattro gli appuntamenti giudiziari, tutti concentrati a Milano e tutti concentrati in poco più di un mese. Oltre al processo Mediaset cominciato oggi, il 5 marzo il Cavaliere è chiamato in udienza per Mediatrade, frode fiscale, appropriazione in debita. Appena una settimana dopo, 12 marzo, processo Milse, corruzione di testimone e poi l'ormai famoso caso Rubi, 6 aprile, con la doppia accusa di concussione e favoreggiamento della prostituzione minorile. Ed ecco il piano d'attacco parlamentare, intanto Paniz, l'uomo PDL della Giunta per le Autorizzazioni, sta lavorando per riportare alla Camera il caso Rubi e far votare in Parlamento la richiesta che è giudicare Berlusconi sulla concussione sia il Tribunale dei Ministri. Ma la mossa più delicata in scacchiera è quella della prescrizione breve, insomma una Cirielli 2, che accorce ancora di più i tempi di prescrizione per gli imputati come Berlusconi ancora incensurati. Poi c'è la riforma costituzionale della giustizia a tutto campo, a cui sta lavorando il Ministro Alfano, ma che l'opposizione continua a vedere più come una velata minaccia ai PM, una sorta di specchietto per le allodole con l'unico obiettivo di continuare a fare legge ad persona. Un piano che serve per garantire l'impunità ai delinquenti. Intanto il Presidente del Senato lancia il suo appello istituzionale, che il giro di Boa sia una riforma della giustizia non contro ma con i PM.